mi ricevi forte e chiaro ok sì quel bastardo è morto non iniziare ho fatto quello che dovevo lo so grazie il treno è pronto a partire a presto non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che... Non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento, sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attento anche tu. Devi andare alla stazione della metro. Allora... Allora...